...un saluto per evitare di avere sulla coscienza gli altri compagni e dico solo che praticamente ringrazio Mentrasti, mi è piaciuta la discussione, penso che sia una discussione positiva e dico solo questo, in maniera telegrafica, un nuovo spazio sinistra è molto difficile, complicato, sarà un impegno non facile, però è l'unica strada su cui possiamo costruire qualcosa di autonomo e io per natura, anche per le cose che faccio quotidianamente, non mi piace l'omologazione, essere uguale agli altri, quindi questa è la base su cui costruire una nuova soggettività, che poi non andremo al governo subito o non ci andremo per dieci anni, l'importante è costruire una nuova soggettività capace di avere una visione su molte cose che riguardano la vita, questo è quello che mi sento di dire, velocemente però penso di essere stato chiaro e il PD è un nostro nemico, è un nostro nemico perché ci vuole morti o servi e chi ha un'idea diversa bisogna che oggi decide di rompere con il PD, io sono stato tra quelli che volevo una nuova sinistra per una nuova centrosinistra, abbiamo fatto tante prove, tante cose, ma purtroppo questa cosa non funziona abbiamo due obiettivi differenti, questa è purtroppo la realtà di cui dobbiamo registrare la situazione e mi dispiace che il gruppo dirigente ancora non l'ha fatto, forse hanno altri interessi, forse hanno altri interessi scusate, io mi saluto